Ottimizzare i servizi su vari presidi dell'Asle di Frosinone attraverso una riorganizzazione generale ed avviare un percorso per l'abbattimento delle liste di attesa, così da andare a regime, rispettando i parametri sia nazionali che regionali tra i mesi di febbraio e marzo. Di tutto questo si è parlato nel corso di una conferenza stampa presso la direzione generale dell'Asle di Frosinone, alla presenza del commissario straordinario Luigi Macchitella. Nell'occasione è stato presentato il nuovo primario radiologo dello spaziano di Frosinone, il dottor Germano Scevola, che attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e nuovo personale punta a ridurre notevolmente la mobilità passiva. Gran parte della popolazione indirizzata verso altre regioni verranno infatti trattate in sede. C'è un programma dell'Asle di contenimento dell'iste d'attesa, sia sui pazienti degenti, ma soprattutto su quelli che provengono dal territorio, con una nuova collaborazione con le strutture accreditate che sono entrate all'interno del nostro CUP, quindi il paziente, il percittadino che richiede una prestazione, se non è erogabile in termini congrui all'interno delle strutture dell'Asle, dei distretti, può accedere direttamente alle strutture accreditate. E noi garantiamo praticamente questa continuità. L'Asle sta provvedendo all'acquisto sia di un ecografo che di un angiografo di alta specializzazione. Come saranno utili alla popolazione della provincia di Frosinone? Allora, intanto gli ecografi sono sei, sono cinque di media fascia che vanno a sostituire o a implementare gli ecografi attualmente presenti nei vari distretti e uno di alta fascia che consentirà l'esecuzione di alcune indagini che al momento non sono eseguibili in tutta la provincia. Parliamo in comprecisione di un ecografo che riesce a fare l'ecografia con il mezzo di contrasto. L'ecografia con il mezzo di contrasto è una nuova metodica, nuova nel senso che è da alcuni anni che è disponibile e consente di eseguire delle prestazioni su patologie focali oncologiche, su più distretti, ma può essere usata anche per le strutture vascolari e i controlli dei pazienti che eseguono una endoprotesi vascolare riducendo quindi il numero di prestazioni TAC su questi pazienti e quindi andando a ridurre la dose radiante a cui il paziente viene sottoposto ogni volta che fa un esame TC. Come sta organizzando il servizio? Il servizio è gravato da una gravissima carenza di personale legata al fatto che essendo una regione in piano di rientro i concorsi pubblici non sono stati effettuati negli ultimi anni e quindi ho trovato una situazione con grave carenza di personale che garantisce la copertura di una guardia attiva H24 per quanto riguarda Frosinone e soltanto alcune attività istituzionali all'interno dell'ospedale. Devo dire che la disponibilità dell'attuale direzione a assumere del personale con forme di contratto differenti dalla dipendenza ha consentito di aprire delle liste di interni che altrimenti non sarebbero rimaste in evase. Siamo in attesa, proprio ieri è stato firmato dalla direzione una delibera di una richiesta di personale siamo in attesa quindi che la regione pubblichi un bando di concorso per sopperire alle carenze di personale e quindi aumentare l'offerta sia per i degenti che per le prestazioni ambulatoriali.